bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video oggi andiamo a parlare di una problematica abbastanza importante e vi darò le mie regole d'oro per capire cosa fare se state perdendo in questo momento se il vostro investimento il vostro portafoglio cripto non è proprio in ottima forma iniziate a singhiozzare gli è venuta l'influenza allora ragazzi ragionate seguendo queste che sono le mie tre regole d'oro per imparare a impostare un'operatività di investimento su un portafoglio cripto in maniera professionale come si ragiona come ragiona un investitore però e poi vi darò la ultima regola la quarta che è un bonus come sempre bene ma prima di andare a guardare queste regole che ho preparato delle slide per voi andiamo a fare una cosa iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciate un mi piace ragazzi così mi aiutate con questi video ma soprattutto nei commenti in questo caso specifico andatemi a scrivere le vostre problematiche quali sono le problematiche che state affrontando in questo momento sul vostro portafoglio se il vostro portafoglio è iniziato a scricchiolare il portafoglio cripto moltissimi sono entrati per esempio a febbraio marzo hanno iniziato a mettere capitali su altcoin quasi tutti fanno così dopodiché boom hanno preso in faccia il ribasso di maggio stanno tutti aspettando le solite diciamo situazioni che noi che siamo sui mercati a tanto tempo abbiamo visto veramente tante volte quindi fatemi sapere quali sono le vostre problematiche perché ho intenzione di continuare questa serie di video proprio perché possono essere un tutorial gigantesco free gratuito per dare a tutti quanti voi un punto di vista più professionale più d'esperienza proprio in un momento molto importante come quello attuale sui mercati cripto e su bitcoin ok bando alle ciance andiamo subito alla prima regole andiamo a vedere le mie slide ragazzi ok quindi regole d'oro per cosa fare e se è in questo momento il vostro portafoglio sta scricchiolando se state perdendo allora la prima regola è questa allora io ricevo veramente tonnellate di messaggi tonnellate di diciamo di di commenti di e mail che mi chiedono sempre la stessa cosa ho fatto questo ho aperto la posizione qui adesso è successo questo che cosa devo fare allora intanto punto primo ragazzi non è che non voglio rispondervi e che un'operazione una trading un investimento viene a essere creato come una grande torta quindi voi la create seguendo delle logiche con un obiettivo finale con delle strategie con degli ingredienti che miscelate insieme quindi non no io probabilmente non avrei fatto nulla di quell'operazione quindi non c'è il medico che vi dà la medicina per risolvere il problema questa cosa non si può fare quindi non è che non vi voglio rispondere perché mi voglio tenere la soluzione per me è che non è possibile però 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 io do a tutti questa risposta qui quindi segui la tua strategia la strategia che avevi ideato all'inizio quando hai aperto quella posizione quando hai fatto quel trade qual era la tua strategia iniziale hai pianificato l'operazione la stragrande maggioranza non pianifica l'operazione chi fa investimenti viene preso dall'impulso iniziale di premere il bottoncino buy perché ci piace ragazzi perché è un gioco alla fine è anche una scommessa ci piace il brivido l'emozione questo non è una cosa da denigrare non è una cosa sbagliata è una cosa che fa parte dell'umanità e la dobbiamo accettare quindi abbracciare e non è sbagliato ragionare così tutti facciamo cose del genere va bene lo si farà anche fra vent'anni di esperienze varie eccetera quello che però è importante è andare a costruirvi una strategia anche se voi avete fatto l'impulso iniziale di andare a comprare definite un trading plan ragazzi ok questo è molto molto importante il trading plan che ve lo insomma semplifico qui al volo in questo video ma poi ragazzi sul mio sito tradingon.it andate a registrarvi gratuitamente sui corsi sul corso basic e accedete a una lezione free del corso basic questa lezione vi dà la possibilità di studiare proprio il trading basta accedere alla pagina che vi lascio in descrizione e poi fate l'accesso per vedere questa lezione qui che è appunto una lezione gratuita del corso basic che di streaming time ma questa lezione potete vederla basta registrarvi nel sito ragazzi che vi registrate vi vedete questa lezione perché mi spiega perfettamente come si struttura un trading plan e quali sono i punti essenziali quindi prima regola d'oro andare a creare un trading plan sulla vostra strategia anche se non l'avete fatto prima dell'operazione fatelo ora quindi decidete qual era l'obiettivo la vostra strategia di quell'investimento avete comprato a da cardano avete comprato e th perché l'avete comprato qual era la vostra idea iniziale qual era la vostra strategia non c'era scrivetela andatevi a vedere quella lezione gratuita e scrivetevi la strategia dopodiché seguite la strategia che avevate in mente secondo punto importante semplificare ragazzi semplificare 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 perché perché bisogna semplificare il portafoglio quasi tutti i neofiti che si avvicinano ai mercati e le cripto incominciano a comprare criptovalute a gogo soprattutto shit coin soprattutto al coin a bassa capitalizzazione oppure progetti perché è bello andare a leggere questi paper white paper è bello immaginarsi un futuro però ragazzi ricordatevi una cosa io sono dovuto o devo dirvi questa cosa allora quando leggiamo dei delle cose online sono semplicemente delle letture non è il futuro vero va bene ragazzi sono delle idee che magari i progettisti potrebbero cercare di realizzare non si sa né se li realizzeranno e soprattutto nel se li vorranno veramente realizzare quindi fate attenzione a tra quello che leggete online soprattutto su questi tipi di investimenti che promettono chissà chi cosa dove come e quando e poi quello che si realizzerà nella vita reale perché c'è una differenza abnorme va bene ragazzi quindi quando andate a progettare un portafoglio semplificate gli investimenti non andate a rincorrere miraggi del 7 mila per cento con micro coin senza senso o meglio se volete farlo fatelo anche però con un pezzettino del vostro patrimonio se avete 10 mila dollari da investire su progetti che magari vi piacciono avete studiato a fondo quello che il team e quotano magari una capitalizzazione di 2 milioni di dollari 3 milioni di dollari sono micro progetti andate investisci perché potrebbero essere effettivamente quelle che vi fanno il 10 per a proposito devo realizzare ancora questo video tutorial come fare il 10 per quindi andate lì a guardare ma non potete mettere su 10 mila dollari del vostro capitale il 50 60 per cento su progetti di questo tipo a meno che non decidiate di dire ok io questi soldi li butto completamente però allora a quel punto ragazzi poi se vedete meno 80 sul vostro patrimonio non vi fate tanti dubbi perché ovviamente quello è l'esito diciamo per abbastanza probabile di questi tipi di patrimoni di portafogli invece magari andate a decidere quali di questi progetti vi piacciono veramente inserite lì non so il 5 massimo 10 per cento del vostro investimento quindi su 10 mila dollari mazio mille dollari ma mila dollari sono anche assai secondo me ok e li dividete in quei due tre progetti non di più non vi servono 10.000 progetti infiniti sulle cripto valute ragazzi c'è un problema legato alla diversificazione eccessiva i mercati delle cripto non necessitano di una diversificazione molto importante soprattutto nei progetti al coin diciamo dai cap chiamiamoli così quelli top i top 100 perché più o meno hanno un principio di correlazione tutte tra di loro soltanto alcune cripto valute sono decollerate in particolar modo le altcoin tra di loro sono fortemente correlate all'atteggiamento di eth quindi come si muoverà th si muovono le altre cripto attenzione non vi sto dicendo che fanno la stessa oscillazione non è questo che vi sto dicendo vi sto dicendo che se th sale salgono le altre se th scendo scendono le altre con molta probabilità poi c'è bitcoin moltissime sono correlate a bitcoin però a fasi alterna bitcoin un po a sé rispetto alle altcoin quello che cambia ragazzi non è la correlazione degli atteggiamenti quello che cambia l'intensità perché se voi prendete delle cripto molto piccole e soprattutto poco capitalizzate aumentano la loro il loro movimento la loro volatilità questo significa che se le cose vi vanno bene allora tutti siamo felici e contenti perché magari la cripto valuta più piccola vi fa più 20 invece del più 5 di bitcoin o ethereum ma se le cose vanno male ragazzi quella cripto vi fa meno denti perché è lo stesso principio come si muove e enfatizzando aumentando la botta rialzista la fa anche quando crolla e quando le cose si mettono male quindi semplificate il portafoglio non diversificate in maniera eccessiva mettete dentro al massimo 5 7 coin dividete fra le top che mi lasciano meno problemi di oscillazione e poi diciamo questi progetti micro che vi piacciono poi terzo ed ultimo consiglio ma poi c'è il bonus fra poco vi dico il bonus che ovviamente è una chicca stratosferica allora ragazzi il rischio prima di tutto ragionate in base al rischio i profitti saranno una conseguenza un portafoglio di investimento non va creato a massimo rischio al di là dei concetti del fatto che nel breve periodo può performare di più questo è possibile ragazzi però ci sono una serie di problemi che si vanno a innescare perché il trader ha necessità di salvaguardare il proprio capitale finanziario il proprio capitale psicologico perché dovete essere puliti davanti al mercato dovete essere tranquilli vivere anche una vita normale non avendo il crepacuore ogni giorno va bene perché l'operazione di amare su cose che non potete controllare ricordatevi i mercati sono aleatori non possiamo controllarli noi facciamo previsioni per prepararci a diversi scenari e agire prima del mercato non perché prevediamo il futuro va bene sono due cose diverse imparate questa differenza quindi ragionate sul rischio meno rischio c'è nel vostro portafoglio più avete possibilità di fare profitti lo so dico una cosa che in contraddizione a tutto quello che avete sentito a tutto quello che vi hanno insegnato probabilmente anche alle università ragazzi meno rischio voi avrete maggiori profitti profitti verano solo come quel film costruisci lì e loro verranno costruite un portafoglio che rischia il giusto ragazzi l'eccesso di rischio fatelo con un decimo del vostro portafoglio oppure fate 90 per cento non lo investo e investo solo quel 10 per cento ad alto rischio e basta tanto se va bene quell'alto rischio ragazzi vi fa guadagnare quanto l'intero portafoglio quindi non avete necessità di investire questo è un trucchetto va bene quindi mi raccomando rischio prima di tutto quando fate un portafoglio bilanciatelo non dovete avere la fomo non dovete avere il la cosa del di di guardare quelle coin ha fatto il 40 adesso salgo lì adesso salgo lì non rincorrete il mercato aspettate il mercato se volete un'immagine il trader e l'investitore quello di alto profilo ragazzi è il pescatore arriva al fiume il fiume scorre e lui lancia la canna sta fermo fin quando non arriva il pesce giusto da prendere questa è la figura che vi dovete stampare in testa non è quello che fa le nuotate per cercare di rincorrere i pesci egli sta dietro perché tanto i pesci sono più veloci arrivate sempre dopo è questo il discorso quindi poi vi beccate i dump in faccia quindi mi raccomando intelligenza rischio è una delle cose che dovete tenere sempre a mente prima il rischio poi il profitto non ragionate in base al possibile profitto ragionate in base al possibile rischio acquistate esponendo il vostro portafoglio va bene il bonus bonus del giorno segui il trend 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 is your friend questa è la mia massima ragazzi sono due anni tre anni da youtuber e tutti quelli che mi conoscono da una vita sanno anche una maglietta di lavoro oggi c'è la maglietta del sushi dopo domani faccio della maglietta 30 allora trend is your friend seguite sempre il trend la regola 4 per sapere se il vostro portafoglio è esposto molto a rischio è questa ragazzi ok andatevi ad aprire un grafico andate a guardare il trend della coin che avete per esempio ethereum contro dollaro andate a guardare se il trend è favorevole alla vostra strategia avete investito per il lungo periodo da qui a due anni pensate che possa salire da qui a due anni guardate il time frame 1d quindi il daily vi fate il grafico lo guardate dite sono a favore di trend questo è il grafico ethereum contro dollaro ragazzi siete a favore di trend nella lungo periodo due anni tre anni sì ragazzi perché il grafico un trend positivo però ricordatevi che spesso questo tipo di grafici e questo tipo di strumenti possono affrontare anche questi periodi di lunghezza più o meno 12 anni dove perdono ma ancora non è così perché vedete in questo punto si vede che ancora il mercato sta reggendo ma se dovesse breccare una media poi la seconda media iniziare a fare questo trend di minimi e massimi discendenti allora il trend sarebbe invertito a quel punto restare su quella coin sarà una vostra scelta però siete contro trend e stare contro trend sui mercati è pericoloso questo è quello che vi sto dicendo ragazzi non significa che lo strumento la coin la cripto bitcoin non possa poi ritornare al trend principale quello di lunghissimo periodo però in quel momento in quel preciso momento siete a rischio quindi trend is your friend vi ripara da questo rischio perché se voi andate a guardare il trend delle vostre cripto quelle che avete nel portafoglio contro dollaro o contro bitcoin perché per esempio io le altcoin le compro a favore di bitcoin cioè vado a vedere se ci sono delle cripto che mi fanno guadagnare bitcoin non dollari e faccio questo ragionamento quindi ognuno può decidere cosa vuole guadagnare se volete guadagnare dollari andate a guardare cripto contro dollaro se volete guadagnare bitcoin cripto contro bitcoin ok quindi nel momento in cui vado a vedere il trend verifico di e dico il trend è positivo ok continua a stare lì il trend è negativo decido in base al mio livello di rischio se chiudere o meno quell'investimento ma il mio consiglio è sempre non andate contro trend se nel vostro portafoglio avete delle cripto valute che hanno un trend negativo nei confronti nei confronti della vostra valuta di riferimento quindi usd in questo caso o btc ragionate e magari andate a ridurre il rischio perché riducendo la vostra esposizione riducete anche i rischi al capitale stare contro trend vi espone molto al rischio perché i trend ragazzi si sa quando iniziano non si sa quando finiscono potrebbero durare anni questo è il problema i trend ribassisti durano un po di meno quindi allora questa è una notizia che vi do quindi magari che diranno un po di meno di quelli ragazzi va bene per oggi è tutto fatemi sapere ragazzi cosa state facendo voi quali sono le vostre cripto valute nel portafoglio e soprattutto quali problemi state affrontando ciao a tutti